E' da sempre che non riesco a realizzare un video così da vicino, ma purtroppo anche così tanto lontano per il timbro della voce, della voce nordese. Questo è un mare di ottobre, sembra di essere un po' vero. Credo che finiranno anche gli arbusti, i flori, qualsiasi cosa, le canne, eccetera. Quelli che non finiranno più sono i quali non esistono più. Tutto qui, basta stop perché ora voglio risentire se questa distanza, che sono due metri, è bastevole e che io possa riuscire a registrare questa conversazione. Stop!